Anche uno partinicese e un uomo residente a Trappeto sono coinvolti nella truffa gravata messa a segno, secondo la Procura della Repubblica di Marsala, ai danni dell'Inps per un ammontare di circa 270.000 euro. In tutto sono 46 le persone, titolari di imprese e loro dipendenti, accusate anche di falso ideologico. In concorso fra loro avrebbero chiesto e ottenuto indennità di disoccupazione non dovute per importi fra 600 e 12.000 euro. Per tutti la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare si terrà davanti al gruppo Annalisa Amato il prossimo 28 di maggio. Gli imprenditori accusati di truffa all'Inps sono il marsalese Giovanni Didia, 49 anni, il partinicese quarantenne Salvatore Leggio e Giuseppe Romualdo Bonafede, di 60 anni, residente a Trappeto ma originario di Marsala. Ci sarebbero loro a capo della truffa e per questo sono stati anche accusati del reato di associazione per delinquere. Al centro della vicenda c'è l'impresa edile marsalese Agema SRL, di cui Giovanni Didia è ritenuto promotore, costitutore ed organizzatore. Sia lui che il partinicese Leggio sono stati amministratori unici della ditta in epoche diverse a partire dal 30 gennaio 2014. E la trappetese d'adozione Bonafede, invece, della Gemma sarebbe stato responsabile protempore. Secondo gli inquirenti, i tre imprenditori si sarebbero associati allo scopo di truffare l'Inps stipulando contratti per false assunzioni di falsi operai, per poi interrompere i rapporti lavorativi con falsi licenziamenti. Tutto questo per poi fare incassare a 43 marsalesi l'indennità di disoccupazione che per l'accusa ovviamente non era dovuta.